Primo ferragosto in Calabria quasi senza salgre, manifestazioni ed eventi per turisti e residenti, quasi 7 su 10 che ogni estate partecipano a eventi enogastronomici e folcloristici che raccontano le bellezze della Calabria e ne ripercorrono le tradizioni. Questo emerge da un'analisi di Coldiretti XE diffusa in merito alle difficoltà causate dal nuovo allarme per la possibile risalita dei contagi nel settore legato alle fiere, alle feste, alle sagre ed eventi oltre che alle discoteche. La crisi delle sagre colpisce anche gli operatori e indebolisce l'indotto che ruota intorno a questi eventi e le proloco, molto spesso protagoniste, devono rinunciare ad un'importante attività promozionale del territorio di competenza. Riceve un duro colpo anche lo street food che ha fatto segnare una vera e propria esplosione negli ultimi anni in occasione di questi avvenimenti, ricorda Coldiretti. I partecipanti avevano la possibilità di fare acquisti per rifornire le proprie dispense o portare regali agli amici. Sagre, fieri e mercate di paese sono per lo più dedicate a ricorrenze storiche o religiose, ma soprattutto ai prodotti tipici dell'enogastronomia locale, che sono molto spesso al centro dei festeggiamenti, che si concentrano proprio nel mese di agosto con il massimo flusso dei turisti. Un momento conviviale alternativo che riguarda sia le località più turistiche, ma anche più spesso le aree interne, meno battute, dove si va a guardare, curiosare fra le bancarelle e magari anche acquistare qualcosa, spesso prodotti del territorio. Le produzioni tipiche regionali, ricorda Coldiretti, nascono proprio nei piccoli borghi, con meno di 5.000 abitanti, un patrimonio conservato nel tempo dalle imprese agricole, con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle culture agricole storiche, la tutela del territorio, del dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. L'alternativa alle manifestazioni enogastronomiche cancellate dalla pandemia sono i mercati coperti e all'aperto degli agricoltori, che evidenzia la Coldiretti si vanno sempre più diffondendo, grazie a Campagna Amica, che ha realizzato una vasta rete di vendita diretta insieme agli spazi in fattoria e negli agriturismi.